L'estro di Michele Inno ha conquistato la giuria del concorso dell'estemporanea di pittura presieduta da Mario Serra che gli ha consegnato il primo premio a un'edizione, la quarta, intitolata la memoria del maestro Domenico Fratianni, scomparso di recente. Da parte mia tanta emozione, sono grata a Giuseppe Santorio e a tutta l'associazione per aver voluto dedicare questa edizione al mio papà. Lui sarebbe contento adesso se potesse partecipare. Sono contenta io di poterlo fare al posto suo e sono contenta di poter raccogliere la stima e l'affetto non solo dell'associazione ma di tanta gente che ho incontrato qui oggi e che ho incontrato in questi mesi comunque nella sua città a Campobasso. Nella palestra interna del convitto nazionale Mario Pagano i pittori, arrivati da tante regioni d'Italia, si sono confrontati sul tema il Natale all'epoca dei crociati e trinitari, l'associazione che ha promosso il concorso. Direi che è stata un'edizione molto interessante, uno perché sono conflitti su Campobasso diversi artisti provenienti da diverse regioni italiane e quindi abbiamo delle opere molto molto interessanti. Proprio a detta di alcuni artisti locali mi hanno confidato che oggi ce la vediamo dura, sarà molto dura e quindi la valutazione anche sarà particolare e sicuramente molto impegnativa da parte della Commissione. Quindi pienamente soddisfatti di questa edizione, un buon numero, un buon afflusso. Questa edizione indoor è un qualcosa di nuovo che ha attirato assolutamente tanti artisti. Sei i premiati finali con inno vincitore. Le opere rimarranno esposte fino a domenica prossima al Circolo Sannitico di Campobasso.